Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi parliamo di un argomento che penso sia davvero caldo in queste settimane, per fatti di cronaca, soprattutto politica, è tornato molto alla ribatta e finalmente se ne sta parlando e quindi penso sia arrivato il momento anche per noi di parlare di revenge porn, detto anche porno vendetta. Come sempre partiamo dalla definizione, ovvero che cos'è il revenge porn, detto proprio in italiano come porno vendetta, che trovo un termine non propriamente bellissimo, un po' cacofonico, ma che spiega molto bene in italiano che cosa significhi tutto questo. Il revenge porn è la condivisione non consensuale di materiale intimo o pornografico sui social, sul web o anche in altri ambienti, come vedremo poi fra poco. E prima di iniziare tutto il mio percorso di quello che è il discorso di oggi, vorrei soprattutto soffermarmi su un punto. Spesso ho letto negli articoli di cronaca, sotto gli articoli di cronaca anzi, nella sezione commenti, tantissime persone che dicono beh ma se non lo giri, se non scatti una foto o se non la mandi sei già a posto, no? Il problema non si pone. Della serie che certe cose basterebbe non farle per evitare spiacevoli inconvenienti, però penso che il problema sia molto più complesso di così. E come già vedete da questo commento, che veramente ha una ricorrenza e una frequenza davvero incredibile sul web, ci rendiamo conto che ancora una volta invece che analizzare il problema e condannare il problema e chi commette questo che ora ha tutti i defetti è un reato, di nuovo spostiamo l'attenzione sulla vittima e iniziamo a fare victim blaming anche quando si parla di revenge porn e soprattutto perché si fa victim blaming, perché soprattutto le vittime in questi casi sono donne in pochissimi casi ci sono uomini vittime, ma perché? Dopo lo vediamo, quindi ora andiamo per gradi, perché così riusciamo a toccare mano a mano tutte le problematiche riguardo a questo problema o almeno spero che sia così. Che cos'è il revenge porn? Il revenge porn comprende tre fenomeni principali e in italiano può essere ovviamente tradotto letteralmente come porno vendetta e non è un termine scorretto a mio parere. Il primo fenomeno riconducibile al revenge porn è il sexting che consiste nello scambio di messaggi contenenti materiale intimo o sessualmente esplicito. Queste fotografie una volta inviate al partner o a altre persone automaticamente non sono più un possesso esclusivo del mittente, ma anzi accade sempre più spesso che il destinatario di questi messaggi non li tenga per sé, non tenga per sé queste foto, ma inizia a condividerle online sui gruppi social o in gruppi di chat su telegram o su whatsapp. Alcune volte però queste fotografie non sono mandate spontaneamente dal mittente ma è proprio colui che diffonde poi questo materiale a scattare alcune foto in maniera del tutto inconsapevole di chi è ritratto. E poi c'è quello che proprio viene definito revenge porn, che è diventato un po' un termine ombrello ma che in realtà definisce solamente questa pratica, ovvero è la condivisione di materiale intimo o sessualmente esplicito da parte di l'ex compagno, l'ex amante oppure quello attuale che poi spero diventi automaticamente ex condivide questo materiale con lo scopo di umiliare l'altra persona. Infatti per questo motivo spesso aggiunge anche delle informazioni che sono mirate a identificare la vittima con nomi, posizione geografica e dettagli sulla vita privata includendo spesso anche link ai profili social o addirittura l'indirizzo. Infine l'ultima delle tre pratiche che vengono poi raccolte all'interno del termine revenge porn che è il sextortion, ovvero è una minaccia un vero e proprio ricatto, ovvero blackmailing che consiste nel minacciare la vittima di rendere pubbliche alcune foto private. Spesso in questo tipo di pratiche chiaramente si sposta l'attenzione non su chi sta mandando questo materiale ma come sempre sulla vittima, cioè su colei che è stata ritratta nelle foto, tra l'altro come se nelle foto ci fosse solo lei. Spesso è così ma non sempre. Da giudicare, da colpevolizzare non è la vittima che nella propria dimensione privata, nella propria sfera privata è libera di fare ciò che crede ma chi diffonde online questi contenuti che sono ovviamente da trattare in modo privato e che devono restare privati è da colpevolizzare. E nel ricostruire tutte queste pratiche sono andata a vedermi proprio l'ente a cui è giusto rivolgersi quando si è vittime del revenge porn o si può essere potenziali vittime o si viene minacciate o ricattate. Infatti ci si deve rivolgere alla polizia postale che lo so non è rassicurante che ovviamente per spiegare il fenomeno pone l'accento sulle motivazioni che spingono la persona, che spingono il colpevole a condividere materiale. Spesso è l'interruzione di una relazione sentimentale che però non è consensuale, viene solo dalla parte di chi poi diventa vittima di revenge porn e che determina nell'ex partner questi sentimenti di rancore e di rivalsa come se questa fosse la soluzione. E nemmeno la polizia postale riesce ad inquadrare in maniera molto specifica la portata di tale fenomeno, essendo molto nascosto, molto sommerso, ma avendo anche un'altra grossa difficoltà, ovvero la mancata denuncia. Spesso non si denuncia. Perché c'è una comprensibile ovviamente ritrosia da parte delle vittime nell'esporre ulteriormente e anche ad una dimensione pubblica e una dimensione che diventa poi istituzionale o almeno così viene percepito una cosa che riguarda la loro intimità che già è stata violata e la vittima spesso è portata a denunciare solo in casi abbastanza estremi ovvero quando l'ex partner diventa persecutore o quando diventa praticamente uno stalker e la polizia postale cerca di mettere in campo i migliori strumenti di cui possiede che sappiamo che sono limitati ma comunque si mette a disposizione di qualsiasi vittima dicendo che è importante denunciare per diversi motivi il primo è banale ma forse è bene ripeterlo è che diffondere materiale privato che memorizzare materiale privato e diffonderlo senza alcun senso è un crimine e anche quelle persone che non sono direttamente coinvolte nel materiale ovvero non sono raffigurate nelle foto ma continuano a diffonderlo nel web sono comunque criminali e visto che già tanto questo video perderà la monetizzazione sicuramente c'è un altro concetto da introdurre che è quello dello stupro virtuale che è ciò che accade nelle chat private alle vittime a vittime spesso inconsapevoli ma non sempre inconsapevoli spesso sono coinvolte spesso vengono rese pubbliche queste chat che è ancora peggio ovvero lo stupro virtuale ovvero quando nella diffusione di questi contenuti all'interno di chat private o di gruppi social non sempre del tutto privati vengono lanciati in pasto a una sorta di branco di cani in materiale intimo e sotto il quale si scatenano commenti che davvero ricordano soprattutto la violenza e lo stupro e diciamo che da pochissimo si è arrivati a una legge della quale parleremo più tardi e gli effetti della legge li vedremo solo fra diverso tempo comunque fino ad ora il problema fondamentale è stato garantire una protezione giuridica che fosse orientata alla tutela completa e tempestiva delle vittime che viene umiliata e disumanizzata tramite la diffusione di questi contenuti ricordiamo ovviamente con facilità casi che sono davvero stati sulla bocca di tutti all'ordine del giorno quello di Tiziana Cantone o di Carolina Picchio che sono vittime si sono tolte la vita proprio per essere diventate vittime di revenge porn e grazie alla diffusione di questo materiale non sono state considerate vittime ai tempi ma sono diventate oggetto di scherno oggetto di derisione soprattutto hanno subito il victim blaming più atroce che abbiamo visto su tutti i media entrambe infatti sono state condotte al suicidio da una pressione insostenibile ma anche soprattutto da un concetto fondamentale cioè era per loro impossibile recuperare, rendere privato e impedire la diffusione di ciò che era stato filmato scattato senza il loro consenso e che non sarebbe mai dovuto circolare e addirittura un'inchiesta abbastanza recente ha dimostrato che il materiale di queste due vittime ancora circola su gruppi privati e chat di telegram e poi c'è sempre la solita domanda perché soprattutto colpisce le donne e non colpisce in larga scala gli uomini che in modo molto minimale sono anch'essi vittima ma guarda caso colpisce sempre di più le donne basta! che è lo stigma che ovviamente ruota attorno a tutta la sessualità femminile non è mai passato persiste ed è forte è vivo e scalcia proprio in maniera molto persistente perché si pensa sempre che la donna procrea la donna è un utero ma non può avere una vita sessuale non può avere libertà sessuale anche nello scegliersi i partner e nel caso abbia deciso di avere una vita sessuale libera, autonoma e autodeterminata comunque non può farlo perché in fondo la donna non può avere gli stessi privilegi di un uomo e si deve vergognare quando ce l'ha per un uomo invece la percezione da parte della società di una vita sessuale molto attiva e anche dove vengono coinvolte diverse partner è un motivo di vanto un motivo di orgoglio ma una donna invece deve essere orientata alla verginità fino al giorno del matrimonio e soprattutto la sua attività sessuale deve essere orientata unicamente al concepimento questo spiega perché la vittima di revenge porn è quasi sempre una donna e spesso una ragazza molto giovane al di sotto dei 18 anni e questo spiega anche perché se nella stessa scena nella stessa foto noi vediamo ripresi un uomo e la donna in atteggiamenti intimi ci dimentichiamo quasi il nostro cervello praticamente non vede l'uomo o non lo percepisce come come se questo per lui non fosse un motivo di vergogna mentre per la donna lo è percepiamo l'uomo nella scena come naturale no? è qualcosa che per noi è accettabile e anzi motivo di motivo di validazione per questa persona mentre la donna si ritrova ricoperta di commenti di disprezzo di vergogna trattata come un oggetto disumanizzata nelle sue scelte percepita come sbagliata quindi non è solo una questione di buonsenso nel non diffondere materiale con il proprio partner è una questione più complessa è una questione che dovrebbe andare ad una radice più profonda un'impostazione proprio culturale della nostra società occorre infatti avere uno sguardo molto più lungo rispetto a quello dell'emergenza quello del caso singolo bisogna cercare in tutti i modi di impedire la diffusione del materiale e cercare di rimuovere questo materiale non permettere che questi materiali vengano diffusi ci vogliono infatti meccanismi e progetti efficaci per sequestrare questo materiale impedirne la diffusione e punire chi invece contraviene a queste regole e bisogna riparlare anche diritto all'oblio ovvero la possibilità per la vittima di vedere non solo cancellato questo materiale ma anche impedire che venga diffuso ulteriormente che possa tornare nell'anonimato il suo nome i suoi dettagli personali e tutto ciò che la riguarda ora finalmente dopo tantissimo tempo sono state approvate delle leggi a riguardo non so saremo dovuti veramente abbiamo atteso come non mai ma per fortuna anche la maggioranza parlamentare ha accolto anche un emendamento che io trovo molto significativo ovvero il codice rosso ma partiamo dalle basi c'è una legge il 2 aprile la camera dei deputati e qui leggo perché io di leggi non ne so nulla ha approvato il DDL recante modifiche al codice penale al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere in pratica è stato approvato un emendamento che introduce nel corpo del codice penale l'articolo 612 ter sul revenge porn e i delitti contro la libertà morale e suggerisce che il bene giuridico da tutelare in primis sia la libertà di autodeterminazione dell'individuo in quanto mira a tutelare l'onore il decoro la reputazione e la privacy della singola persona attinente alla sua vita sessuale e alla reputazione di cui essa gode riprendo da leggere perché questo ve lo posso leggere ovvero l'articolo 612 cosiddetto revenge porn e questo ve lo leggo di nuovo l'articolo 612 cosiddetto revenge porn viene punita la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone in esse rappresentate le pene previste sono la reclusione da 1 a 6 anni la multa da 5.000 a 15.000 euro la punizione è prevista anche nei confronti di coloro che avendo ricevuto e acquisito le immagini le diffondono al fine di recare danno ai soggetti in esse i ritratti la fattispecie risulta aggravata se si realizza all'interno di una relazione affettiva anche se già conclusa o se vengono utilizzati strumenti informatici quindi comunque adesso abbiamo una legge che dice in maniera esplicita che la diffusione di certo materiale verrà punita e ci saranno anche delle multe pecuniare e quindi si pagherà anche in denaro oltre che con la reclusione che è parecchio alta da 1 a 6 anni e soprattutto si parla anche di aggravanti l'aggravante è se è l'ex partner a diffondere questo materiale se avviene tramite metodi informatici quindi praticamente nel 99% dei casi e quindi niente quello di oggi voleva essere una puntata da un lato informativa perché bisogna fare dei punti capire la complessità del revenge porn è qualcosa che secondo me è necessario e ancora una volta io vorrei portare l'attenzione sul fenomeno nel senso che questo è il classico fenomeno che si è diffuso più o meno tramite internet ma se pensiamo a 30 anni fa 40 anni fa comunque in alcuni casi parlare di sessualità femminile era sempre qualcosa di visto come negativo e in questo caso però l'aggravante è sempre la stessa rimane sempre la stessa una donna non può avere una vita sessuale cosa che invece per l'uomo è un vanto è un merito è un motivo d'orgoglio e questa cosa deve sempre di più cambiare non possiamo percepire le donne come sessualmente immobili relegate nei ruoli di genere di 100 anni fa dobbiamo continuare a pensare che le donne possono autodeterminarsi avere tutti i partner che vogliono e che questo non deve essere per loro motivo di repressione da parte della società soprattutto dobbiamo di nuovo capire che non basta ridurre il fenomeno ma se non l'avessi scattata la foto saresti già a posto spesso questo materiale viene prodotto in maniera non consensuale spesso è scattata di nascosto una foto è scattata in momenti dove magari la vittima dorme dove magari la vittima non se ne rende conto e spesso la vittima può essere in stato di ebrezza o cose di questo tipo e non è possibile che noi ancora una volta stiamo ad analizzare cosa stava facendo la vittima in quel momento perché lo stava facendo piuttosto che concentrarci sul crimine commesso il crimine commesso non è aver scattato una foto mandata a un fidanzato il crimine commesso è che questo ex fidanzato o fidanzato si permette di condividere materiale privato con persone sconosciute o con amici violando la privacy e la dimensione intima di una persona questo ovviamente ripeto dipende da diversi fattori il primo è sicuramente lo stigma che ruota attorno alla sessualità femminile e anche un po' di nuovo ci riconduciamo al concetto di cultura dello stupro ovvero di rape culture dove invece che sempre spostarsi verso l'obiettivo fondamentale che è quello di eliminare questo tipo di reati di nuovo cerchiamo un sistema un po' protezionistico perché in fondo insomma ma dai ma si fa in ragazzi no ragazzi il cazzo perché ancora di nuovo si innesca questo sistema protezionistico dove invece che tutelare la vittima e comprendere che è una vittima anche se il materiale è stato condiviso in maniera consensuale con il partner magari per un momento di intimità tra i due o per un certo livello di intimità ma non è possibile che ancora una volta proteggiamo chi questi reati li commette e puntiamo il dito sempre contro la vittima perché in fondo è stata stupida perché in fondo è stata sciocca perché in fondo non doveva fare quelle cose e non è lei che non doveva fare quelle cose non è la vittima che non doveva fare quelle cose e non doveva diffondere materiale è il colpevole io come sempre spero che questo video abbia messo un po' il punto su tutte le varie dinamiche che riguardano il revenge porn e che cosa comprende perché secondo me c'è anche tanta ignoranza rispetto al fenomeno io trovo anche che chiamarlo porno vendetta sia molto efficace in italiano ve lo dico anche se tutti diranno che suona molto cacofonico ma a me non interessa perché è un è esattamente questo è porno vendetta è diffondere materiale a scopo di rivalsa scatenato da ovviamente sentimenti di rabbia sentimenti di vendetta sentimenti di rancore e questo non potrà mai essere accettabile dobbiamo trovare anche il modo di potenziare la polizia postale potenziare gli organi competenti a rimuovere il materiale e non continuare a sminuire il fenomeno il codice rosso tra l'altro permette alle vittime proprio di accedere in maniera molto repentina a un aiuto cosa che spesso viene sminuito e vengono lasciati passare mesi e mesi e mesi prima di prendere in mano la situazione e fare qualcosa da parte delle autorità e questo invece si spera aiuterà di più le vittime io davvero ancora di nuovo spero che quello di oggi sia risultato un video interessante ci tenevo a fare un punto su questo tema da diverso tempo e quindi spero che anche per voi sia stato un argomento interessante vorrei sapere cosa ne pensate riguardo a tutto questo fenomeno e se c'è qualcosa che secondo voi potrebbe aiutare la riduzione del fenomeno e soprattutto secondo me c'è bisogno di parlarne perché tantissimi giovani non si rendono conto del materiale che diffondono per questo io volevo citarvi In Your Shoes Project perché è un progetto che ho conosciuto tramite Julie Hall vi link ovviamente tutto giù è volto ad aiutare le vittime a dare sostegno soprattutto alle vittime molto giovani perché infatti questo è un fenomeno che colpisce soprattutto le ragazze molto giovani che si ritrovano vittime inconsapevoli e che subiscono i maggiori traumi che difficilmente denunciano che difficilmente trovano sostegno che provano maggiore vergogna nel chiedere aiuto e per questo vorrei ringraziarli perché trovo che sia un progetto veramente molto interessante vi linko tutto giù nell'infobox detto ciò io rinnovo i miei auguri per il Feminist Friday a tutti voi e vi ricordo che continua anche su Instagram se voi su Instagram se condividete nel vostro feed una foto con l'hashtag Feminist Friday che riguardi qualsiasi cosa della quale volete parlare di temi femministi che siano libri musica arte o temi tematiche questioni di approfondimento io le riposterò su tutte le mie stories come tutte le settimane ed è sempre bello vedere che partecipate in tanti niente direi che per oggi è tutto spero che il video sia risultato interessante e di avervi tenuto compagnia come sempre io vi ringrazio tantissimo di essere stati qua con me e ci vediamo al prossimo video ciao ciao